In Italia quasi l'80% del territorio è a rischio idrogeologico, in Molise la percentuale sale al 100%. Sull'argomento interviene Antonio Federico, il deputato del Movimento 5 Stelle si schiera al fianco dei piccoli comuni che vanno sostenuti con fondi che andrebbero erogati velocemente per permettere interventi puntuali e circostanziati. Per questo, spiega, sono fondamentali le norme di tutela contenute nella legge semplificazioni che prevede risorse certe, meno burocrazia e interventi rapidi nelle zone più colpite. La semplificazione va incontro ai piccoli comuni che non riescono a realizzare progetti cantierabili per la tutela del territorio, magari per carenza di personale o magari per carenza di fondi. Con la delibera cipia, aggiunge Federico, abbiamo permesso ai comuni che non riescono ad affrontare questa mole di lavoro di avvalersi di società in aus del Ministero. Anche per le progettazioni esecutive le risorse disponibili sono superiori a 7 miliardi. Quello che è successo in Piemonte e in Luguria in questi giorni ha dovuto far riflettere un po' tutti perché la fragilità del nostro territorio, del nostro suolo è evidente, è una cosa nota e ha avuto un ulteriore esempio quello in questi giorni. Anche il Molise non è immune da tutto questo e lo sappiamo perché praticamente tutto il territorio regionale è soggetto a rischio idrogeologico e tanti sono gli interventi che sono posti in essere dai vari enti preposti a partire anche dal commissario regionale. Il punto è che spesso e volentieri alcuni interventi rimangono fermi anche se sono finanziati perché ricada nei piccoli comuni la necessità di dover affrontare le spese di progettazione di messa in sicurezza del territorio perché spesso proprio nei piccoli comuni ci sono quelle aree in cui avvengono questi dissesti. Con il decreto semplificazione e anche l'impegno del Ministero dell'Ambiente e del Ministro Costa si vuole dare supporto a questi comuni.